Bentornato negli studi Temporadio ad Antonio Carrassi, comandante della Polizia Locale di Castiglione del Restiviere. Bentornato comandante. Buongiorno alla redazione e tutti i radioascoltatori ben ritrovati. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi whatsapp, il 338 17 19 105. Per telefonarci fatelo 0376 63 17 09, indirizzo mail diretta-temporadio.it e poi vi invitiamo a usare la pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio. Siamo in streaming, quindi ci potete seguire e ci potete anche scrivere contemporaneamente. Allora, so che comandante lei come compito ha guardato alcuni dati fondamentalmente sui vari tipi di infrazione che sono stati riscontrati in territorio aloisiano. In modo molto sintetico ho estrapolato alcuni dati questa mattina che riguardano i verbali a codice della strada che è il nostro pane quotidiano e l'ABC della Polizia Locale o qual si voglia dire vigili. Quindi, giusto per avere un'idea, abbiamo avuto un incremento totale delle verbalizzazioni, quindi delle infrazioni accertate, rispetto all'anno scorso di un più 20%. Praticamente quest'anno, nel 2016, dall'inizio dell'anno fino a qualche giorno fa, abbiamo rilevato 3852 infrazioni rispetto a 3171 dell'anno scorso. Quindi abbiamo un 20% in più di sanzioni. Nel dettaglio, sempre in modo molto sintetico, possiamo dire che le infrazioni, che è anche un po' stupefacente come dato, le infrazioni al semaforo, quelle rilevazioni del semaforo, quindi di chi passa col rosso o chi cambia la corsia, abbiamo un totale quest'anno di 2157 rispetto a 1410 dell'anno scorso. Quindi parliamo di un più 50%. Per quello dicevo che era stupefacente. Come molte volte ho già ripetuto, ci sono i segnali, c'è il semaforo, è una delle infrazioni che codice e sanzioni in modo pesante, con decurtazione di 6 punti. La gente ignora tutto questo e continua a passare col rosso. Da quando l'abbiamo installato, sono ormai passati quasi cinque anni, i dati sono sempre in incremento su questo aspetto. Le multe per il divieto di sosta sono 213 rispetto a 2,72 dell'anno scorso, quindi meno 20%. Le infrazioni per chi va senza assicurazione, ne abbiamo riscontrate quest'anno 19 rispetto a 27 dell'anno scorso, quindi abbiamo una flessione di 25% in meno, questo dovuto al mancato riscontro immediato nel non rilevare più il contrassegno sul parabressa. Quindi è stato abolito e chi fa i controlli su strada ha più difficoltà rispetto a prima, quindi la flessione è dovuta anche a questo aspetto qua. Quello del togliere, magari ne parliamo un po' di codice della strada comandante, perché quello di togliere l'obbligo di esposizione dell'assicurazione è un qualche cosa di abbastanza misterioso, cioè francamente non ne comprendo, parlando con altri automobilisti, visto che siamo tutti automobilisti o quasi, non se ne comprende la motivazione, anche perché tra l'altro per l'automobilista stesso, io stesso per esempio, ogni tanto guardavo il parabrezza della macchina e dicevo sì, ok, allora ho due mesi, ancora ho tre mesi, uh, mannaggia, meglio che vada perché sta per scadere, adesso devo andare a tirar fuori i documenti, andare a cercare la pagina giusta, eccetera. Oppure inserirle nelle applicazioni che abbiamo adesso, che sono di modo sui telefonini, con le alert e le memorie. Però il decreto che ha attuato, il non obbligo a posizionare il contrassegno, si chiama come titolo, tra le altre parole, c'è la dematerializzazione della carta. Quindi io un po' polemico posso dire che dematerializzare un fogliattino di carta di qualche centimetro, dove era contrapposto un controllo immediato, dove appunto il vigile o la polizia o i carabinieri, chiunque faceva i controlli in modo immediato, vedeva il contrassegno, mi sembra un po' non molto conforme per quanto riguarda la sicurezza. Anche perché molti comuni che sono al di sotto della nostra portata dovrebbero, cioè hanno più difficoltà, nel senso che devono collegarsi alla banca dati dei comandi, delle centrali operative, degli uffici, per verificare se quella macchina è assicurata. Quindi comuni di 4-5 mila abitanti, ma anche i nostri, per esempio a pomeriggio dove non abbiamo nessuno all'interno dell'ufficio, del comando, è quasi impossibile verificarlo al momento. Quindi è da prendere la targa, andare in ufficio e vedere la veridicità appunto dell'assicurazione e poi procedere. Ma nel frattempo se quella macchina va via è una persona che gira senza assicurazione. Ma succede anche a voi quello che per esempio ha raccontato una volta il suo collega a parigrado di Castel Goffredo, che addirittura ci sono gli automobilisti che ringraziano perché non sapevano che stavano andando magari senza... Sì, come capita molto spesso per le revisioni. Ci sono tante persone che fanno i furbi, che bisognerebbe scrivere un'enciclopedia di tutte le motivazioni e giustificazioni che gli utenti della strada danno. Però tante persone si vede proprio la loro onestà e sincerità nel dire mi sono proprio dimenticato della revisione o anche dell'assicurazione. Appunto manca il riscontro oggettivo e immediato di un pezzo di carta che gira e è attaccato lì su Paravrezza che non c'è più. Che non c'è più, esatto. Dunque, poi c'è questo discorso anche del semaforo. Lei dice appunto stupisce il fatto che da quando è stato installato siano sempre di più, addirittura aumentate del 50% rispetto allo scorso anno. Se l'andamento prosegue perché tra l'altro il 2016 non è ancora finito. No, non è finito, quindi il trend sicuramente sarà increscendo. Però, ripeto, non giustifico questi dati e sono incomprensibili anche dal mio punto di vista. Come dicevo prima, sono più di quattro anni che c'è quel rilevatore lì ed è indicato con la segnaletica preventiva, messa a monte del semaforo. La segnaletica orizzontale viene metodicamente ripresa, quindi è chiarissima anche la segnaletica. le telecamere, i rilevatori in alto sono ben visibili. Nonostante questo, dall'inizio dell'anno, rilevare 3.852 infrazioni che in modo molto approssimativo sono circa 350 al mese, 350 al mese facendo diviso 30 addirittura una decina al giorno di persone che passano col rosso, ignorando segnaletiche, ignorando tutto, mi sembra un po' nella normalità di un utente stradale. Leggo alcuni messaggi, comandante, un ascoltatore dice Perché non riuscite a cacciare per sempre gli zingari dalla zona industriale? Dice addirittura, spartegli addosso se non vanno via? Non credo che si possa, però insomma... Gli zingari, come dicevo anche in altre occasioni, è una realtà che esistono. Lo Stato italiano consente che esistano i nomadi che girano e da qualche parte devono fermarsi, non possono certo volare. In zona industriale sono più visibili ultimamente, anche se c'è qualche episodio in più rispetto all'anno scorso, un incremento di passaggi, di transiti che si fermano, ma gli altri anni erano meno visibili ai cittadini perché erano a margine verso la campagna, magari lì verso il confine con Montichiari. Sono stati attuati degli accorgimenti per non farli più andare, quindi hanno smesso di andare nei posti che erano più in ombra. Adesso si sono posizionati negli ultimi tempi via Maestri del Lavoro, dove c'è un parcheggio. Lì purtroppo anche facendo dei manufatti o impedendo di entrare, bisognerebbe chiudere il parcheggio, che praticamente è possibile. Certo. Però anche se si chiude quel parcheggio, si impedisce di andare in quel posto, si sposta in un altro posto. Quindi è un rincorrersi con le norme, consentono, danno poco spazio, non danno molti mezzi per affrontare queste situazioni. Subentra problemi di igiene, subentra problemi di spazi, i panni stesi che mettono dal punto di vista estetico. Non c'è un lato positivo dove si ferma un gruppo di nomadi. Come dicevo prima, i mezzi che abbiamo, attuiamo dove vediamo che i nomadi sono imperteriti e non si muovono, e mettiamo un'ordinanza firmata dal sindaco, che dal punto di vista igienico non ci sono i requisiti e gli spazi giusti, e nell'attuare l'ordinanza vanno via, e quindi riusciamo a spostarli. A volte con molta fatica. Tra l'altro, stavo guardando, ci sono a tale riguardo proprio altri messaggi. Saluto Mario, per esempio, che dice cosa si può fare per evitare l'etamaio che hanno fatto gli zingari in zona industriale? Proprio appena detto, proprio questa ordinanza. C'è anche chi dice che gli zingari sono un cancro per noi. Lasciano sporco e noi paghiamo tutti, dice un altro ascoltatore. Quindi, appunto, sono molti gli ascoltatori che sono irritati. Tra l'altro, possiamo anche dire, tra l'altro approfondendo anche il messaggio dell'ascoltatore che ha scritto Paghiamo Noi, che recentemente un esponente politico, per esempio, ha anche detto che mi piacerebbe sapere anche come facciano da avere certe macchine che non sono proprio delle utilitarie. Magari in seconda mano, addirittura. No, sono autocostose. Sì, però lo Stato e le leggi che ci sono non consentono alle forze polizie o alle forze dell'ordine andare lì, prendergli la macchina e sequestrargliela. Cioè, loro prima di comprarsi le macchine o fare quello che devono fare, sicuramente hanno tutti i requisiti perché possano avere delle macchine o intestate ad altre persone. Ok, però, come dicevo, le leggi che ci sono facciamo tutto quello che è possibile fare nel limite e nel rispetto delle leggi. Noi siamo meri esecutori di norme e di leggi quindi non possiamo interpretare o agire arbitrariamente o per conto nostro ma dobbiamo purtroppo, certe volte, dico purtroppo, adeguarci ai parametri normativi. Quello che possiamo fare, come dicevo prima, è far emettere al Sindaco un'ordinanza per quanto riguarda igiene perché se non ci sono i bagni pubblici alcune roulotte ci sono 3, 4, 5 persone. Quando vanno via le roulotte si trova sporco di tutti i generi e quindi l'aspetto igienico è quello fondamentale. Certo, certo. Fermiamoci un attimo col comandante Antonio Carrassi Polizia Locale di Castiglione dell'Estiviere ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Stiamo dialogando con Antonio Carrassi questa è la seconda parte di filo diretto con gli ascoltatori. Antonio Carrassi, comandante della Polizia Locale di Castiglione dell'Estiviere. Sono tantissimi messaggi, comandante, che ha ricevuto e che sta ricevendo. Vedo su WhatsApp che c'è un ascoltatore che sta ancora scrivendo, per esempio, adesso gli lasciamo il tempo. Vorrei mandare un saluto a Roberta, per esempio, che ha mandato un messaggio su WhatsApp e dice «Buongiorno, si vedono sempre più persone alla guida col cellulare. Come è possibile mi fanno una rabbia?» Anche perché possiamo dire anche questo, comandante, che una volta col telefono cellulare c'erano quelli che parlavano mentre guidavano, ma io vedo tanti che scrivono i messaggi e rischiano di andare nel fosso, nel migliore dei casi, appunto. Adesso l'ultima funzione dei smartphone è appunto quella di telefonare. Invece ci sono tante funzioni, come dicevo prima, anche per ricordare la revisione dell'assicurazione. C'è l'agenda che uno ci lavora su mentre guida, ci sono messaggi, WhatsApp, c'è una miriade di funzioni e di applicazioni che ti costringono a distrarti, perché se uno lo usa per lavoro e fa un viaggio di qualche ora, non può non fare a meno di utilizzarlo. Quindi ci sono quelli più onesti dal punto di vista del codice della strada e come utenza che si fermano e continuano e quelli che lo fanno normalmente. Anche andare in giro, per conto mio, è una moltitudine di persone che lo usa ed è, l'avevo detto anche in un'altra occasione, bisognerebbe a livello centrale obbligare le case automobilistiche ad installare i viva voce che sono universali per tutti i telefoni. Nel senso che il telefono normale, lo smartphone, quando entra nell'abitacolo del veicolo, dovrebbe disattivare i comandi manuali e quindi usare solo quelli vocali. Certo. Quello sarebbe un sistema e obbligare appunto l'utente a non più utilizzare lo smartphone. Anche perché tra l'altro i telefoni di ultima generazione, io ne ho uno da 40 euro, posso dettargli i messaggi per esempio a questa funzione. Sì, ci sono tanti sistemi, però quello più efficace secondo me è anche più semplice e proprio impedire all'utente di utilizzarlo. Certo. Allora, salutiamo anche, da Roberto andiamo a Roberto, il quale scrive sempre su WhatsApp, e mi scusi la curiosità comandante, ma il semaforo quando riprende l'infrazione? Con il giallo o con il rosso? No. Allora, il codice della strada prevede l'articolo 146 che chi arriva sull'intersezione semaforica e non ha ancora impegnato l'area di intersezione e il semaforo proietta luce gialla all'obbligo di fermarsi. Quindi chi attraversa col semaforo giallo che non ha impegnato già l'incrocio è passibile dalla stessa sanzione che chi passa col rosso. Benissimo. Vale a dire che sei punti di infrazione e 160 euro. Il nostro rilevatore, quindi adeguandosi alle omologazioni nazionali del nostro ministero, rileva le infrazioni solo chi passa con il rosso, dando uno spazio di circa 4 secondi, così almeno gli ascoltatori sono consapevoli, di 4 secondi del giallo, ed è un tempo relativamente ampio rispetto a tutti gli altri semafori. La media è 3, se non mi sbaglio, no? Sì. In Italia. Il ministero dice almeno 3 secondi. Noi andiamo da 4 a 6 secondi circa di spazio per consentire appunto delle manovre un po' più agevoli, senza pressioni, e rileviamo solo chi attraversa la fascia d'arresto esistente quando il semaforo proietta luce rossa, quindi non col giallo. Benissimo. Allora, un lungo messaggio sempre su WhatsApp da parte di un ascoltatore che aveva già segnalato, per esempio, tempo fa, il 6 settembre, segnalava la presenza dei nomadi, ecco oggi ha scritto per i nomadi è un'indecenza, sono stati 7-8 giorni, e i vigili dove erano scuole ancora chiuse, dice appunto Isclamativo. E poi ha aggiunto anche manutenzione, aiole è quasi inesistente, in via Gentile è mai regato, sono morte tre piante, grandi, chi taglia l'erba rompe tutti i getti. Questa è la segnalazione dell'ascoltatore. Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, non è mia competenza, ma è l'area tecnica a cui bisogna rivolgersi. Riteniamo. Ecco, so che c'è un problema di erba alta, di aiole, noi molto spesso segnaliamo all'ufficio tecnico in quelle intersezioni in croci, dove la visuale viene diminuita appunto dalla presenza dell'erba alta, e quindi so che c'è un problema, ma non posso risponderne io, perché non è mia competenza. Per quanto riguarda invece il primo aspetto che era, riguarda? Allora, aspetti che andiamo a riprendere il messaggio, comunque si lamentava appunto, il fatto che sono stati sette, otto giorni, esatto. Non sono sette, otto giorni, perché i cittadini può sembrare che sia sempre lo stesso gruppo, ma posso assicurare, documentare anche che i gruppi al massimo si fermano due giorni, al massimo, quindi sono gruppi che si scambiano tra di loro in una sorta, immagino, quindi l'esperienza che ho di un tam tam tra i vari gruppi, a dire, mentre si spostano da un luogo all'altro, comunicano agli altri gruppi amici, dando indicazioni di zone, luoghi e vie. Poi con i navigatori adesso, prima, mi ricordo qualche decennio fa, arrivavano in avanscoperta, vedevi le due o tre auto di nomadi che venivano a scoprire dei posti, adesso con navigatori e quant'altro, è molto più semplice, quindi i cittadini, concludendo, appare che siano i gruppi che stanno lì, che stazionano per moltissimo tempo, in realtà no, sono gruppi che si scambiano. Certo. Poi saluto Roberto, anche che si lamenta, non so però di quale semaforo sia, perché dice, il verde dura il passaggio di una sola macchina, per cui ricordo che era stata fatta una ricerca tempo fa sul perché l'automobilista ha la sensazione che il rosso dura di più del verde e la risposta era perché il rosso dura di più del verde, sempre, perché c'è un momento in cui sono rosso da tutte le parti per evitare incidenti. Castiglione abbiamo quattro intersezioni sia maforiche, l'ospedale che non dura un secondo, quello di Caraffe con viale Longhi che è stato ripristinato non dura un secondo, c'è quello di San Pietro, quello più amante non dura un secondo, forse intende quello lì dove c'è la fermata dei bus, che è quello più breve, ma perché il traffico è più consistente, quindi lo teniamo, ma non solo per una macchina. Benissimo. Allora, tra l'altro a proposito di semafori, le fanno i complimenti finalmente al semaforo di Via Caraffe, tra l'altro, per cui c'è chi è contento invece. Ah sì, c'era anche questo messaggio a voi, date la multa a noi e non ai nomadi, questo non è giusto. Quindi qua torniamo a parlare dei nomadi appunto con... Sì, la multa a noi, probabilmente se qualcuno sbaglia qualche norma è consapevole che sbaglia, quindi è giusto che venga sanzionato. E i nomadi, come dicevo prima, a livello centrale dello Stato italiano consentono che questi gruppi si muovano, quindi non può essere il vigile di Castiglione o il vigile di un altro comune prendere e inventarsi una norma che non esistono. esistono, si devono fermare, ci sono dei problemi igienici, quindi nel rispetto delle norme e della tutela di tutti i cittadini che sono presenti sul territorio, noi attuiamo e facciamo quello che è previsto dalle leggi, né di più né di meno. Allora, bravo, dice, comandante, impedire l'uso del telefono in macchina sarebbe ottimo, effettivamente è qualcosa che blocchi, anche perché c'è una specie di sindrome, basta guardare nei parcheggi, uno sale in macchina e prende il telefono. di sotto, un'altra ti insegnavano a mettere la freccia, no? Comandante, siete troppo bravi, dice un altro ascoltatore, a rimanere calmi con certe persone, fate corsi di savoir faire? No, corsi non ne facciamo, però tante volte scappa la pazienza anche a noi, lo ringrazio per i complimenti. Fermate tutti gli extracomunitari perché la maggioranza di loro non è assicurato. Facciamo i controlli a random, molto spesso andiamo nei quartieri critici e rileviamo quello che è. Non ho statistiche di questo genere che persone stranieri girano senza assicurazione più degli italiani. Posso assicurare e garantire che ci sono tanti insuospettabili che abbiamo trovato anche senza assicurazione, quindi non sono solo le extracomunitari, ma con la crisi che c'è è una cosa un po' più generalizzata. Certo. Altro messaggio ancora, comandante, se avete aumentato le infrazioni o i castiglionesi sono irregolari o voi avete aumentato i controlli e comunque va bene. No, i controlli nel caso del semaforo dell'ospedale non li abbiamo aumentati perché c'è un rilevatore che è automatico, quindi in modo automatico registra tutte le infrazioni da quasi cinque anni a questa parte. Quindi è oggettivamente riscontrabile che sono i cittadini che sbagliano di più e non che noi abbiamo aumentato i controlli perché i controlli sono in modo automatico e quindi non è soggettivo. Comandante a Castiglione state lavorando bene anche con questa amministrazione, complimenti, salutiamo Ugo che le ha mandato questo messaggio. Grazie Ugo. Poi, ah, Nicoletta dice cosa si può fare contro sacchetto selvaggio, quindi abbandonare i rifiuti. Contro sacchetto selvatico noi continuiamo a andare fuori con gli operai dell'Indecast, facciamo dei controlli periodici di media una o due volte alla settimana, materialmente andiamo lì, apriamo i sacchetti e vediamo se troviamo elementi oggettivi che possa essere riconducibile a qualche cittadino. Molto spesso li troviamo, alcune volte no perché i cittadini a volte sono più furbi di noi quindi non mettono riscontri nei sacchetti e lì purtroppo... Eh, effettivamente. Allora, poi c'è un altro messaggio un po' più complicato che leggo prima a questo. Marica scrive Buongiorno comandante, come faccio a sapere se l'auto usata che ho comprato deve fare la revisione? È riportato nella carta di circolazione, c'è un adesivo che riporta l'ultima revisione e quindi se il veicolo non è nuovo, che la prima revisione si fa dopo quattro anni, quella periodica successiva è ogni due anni. Sa cosa però può essere? Quando compri un veicolo usato delle volte la motorizzazione ti prende il libretto per un po', per cui magari non ha visto. Sì, altrimenti se va sui siti specializzati della motorizzazione con la targa riesce. Benissimo. Ci sono anche quelle applicazioni dove indica se quel veicolo è assicurato o meno ma anche la revisione. Benissimo. Per esempio il portale dell'automobilista. Allora, Ilario manda un messaggio discorso a Salve Carrassi. Cosa dice dell'Unione Castiglione-Solferino? Voi, per quanto riguarda voi, state lavorando bene? Noi, sì, non abbiamo nessun problema di qualsiasi genere. è da gennaio che abbiamo la convenzione va nell'aspettativa a cui ci eravamo prefissati. L'obiettivo della convenzione porta tre anni e quindi posso soltanto dire che andiamo bene e non c'è nessun problema di nessun genere. Quindi la convenzione come avevo detto anche un'altra volta non riguarda la questione della fusione del referendum che si farà da qui a qualche mese ma una cosa completamente diversa. Quindi noi abbiamo una convenzione di tre anni iniziata a gennaio 2016 e andremo fino alla fine del 2018 indipendentemente al corso della fusione. Benissimo. Siamo in chiusura. Noi ringraziamo ovviamente moltissimo il comandante della polizia locale di Castiglione dell'Estiviere Antonio Carrassi grazie comandante. Grazie i radioscoltatori e la redazione mi dà la possibilità di stare vicino ai cittadini. Grazie e buongiorno. Grazie a lei.